La CGL di Livorno ha inaugurato un nuovo sportello sicurezza in Vega-Ribaldi, una delle zone della città più volte al centro delle cronache. Lo scopo dell'iniziativa è quello di creare un punto di ascolto per fornire assistenza alle vittime di truffe e per arginare il fenomeno della microcriminalità. All'inaugurazione, insieme ai vertici del sindacato, c'erano i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Questa è una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo in tutta la provincia, che è quella di garantire in qualche modo aiuto e assistenza alle persone fragili, quelle anziane e quelle comunque in difficoltà. La situazione economica e sociale del paese, della provincia, della città di Livorno sta in qualche modo comunque peggiorando e questo sta aumentando la ricerca di beni illeciti da parte di troppe persone attraverso le truffe che spesso coinvolgono le persone anziane più fragili. Noi vogliamo costruire uno sportello sicurezza insieme a compagni del CILP CGL, il sindacato di polizia e oggi abbiamo invitato tutte le istituzioni proprio per dare un senso di ufficialità a un problema che purtroppo è presente anche in questa città. Vogliamo insomma aiutare le persone che in qualche modo sono maggiormente in difficoltà.